Continua lo spettacolo in Fiera Reggio Emilia, dal 25 al 27 maggio, America's Fun. Ogni giorno fino a tarda notte, l'America fa spettacolo. Straordinario show di stand drivers, musica, cheerleader, octagon, zumba, braccio di ferro, football americano, pin-up, burlesque, Texas poker e una straordinaria esposizione di auto e moto americane. America's Fun, l'avvenimento che non puoi perdere.